Con noi per i bambini malati e le loro famiglie, questo è il messaggio chiave della campagna di sensibilizzazione raccolta fondi tramite il numero solidale 45594 dell'associazione Onlus Casa Ozz organizzazione che opera a Torino e fornisce sostegno e assistenza a famiglie con minori che vivono situazioni di malattia fino al 28 marzo sarà possibile contribuire alle attività di Casa Ozz una casa accogliente dove ritrovare le energie e il piacere di stare insieme nonostante le difficoltà indotte dalla malattia tutte le azioni sono finalizzate alla restituzione di un po' di normalità al superamento degli ostacoli relazionali e all'uscita dall'isolamento sociale a cui la patologia conduce Da Casa Ozz sono già transitate più di 1150 persone tra adulti e bambini provenienti da oltre 29 paesi nel mondo che qui hanno potuto trovare un aiuto concreto un numero che può crescere anche grazie ai progetti collegati a questa campagna con pari e dispari in giardino si vuole realizzare un'area gioco esterna con un percorso per disabili e normodotati volto a favorire l'integrazione sociale attraverso momenti di gioco e laboratori all'aperto le attività saranno rivolte sia ai piccoli ospiti di Casa Ozz che ai ragazzi del territorio grazie alle donazioni si potrà inoltre implementare il Laboratorio delle Emozioni un progetto informativo e divulgativo pensato per le scuole primarie per affrontare in modo costruttivo l'argomento della malattia e della diversità attraverso un'azione mirata di sensibilizzazione destinato a diffondere sempre più la cultura dell'accoglienza e della solidarietà grazie a tutti